Un bonus in grado di azzerare totalmente le rette degli asili nido e micronidi. È il primo intervento con cui Giuseppe Conte vuole far partire il proprio mandato, lodevole ma che potrebbe essere l'ennesima beffa per il Sud. L'Italia è in forte ritardo rispetto all'obiettivo europeo di offrire un posto almeno al 33% dei piccoli sotto i tre anni. Siamo appena al 21,6% tra strutture pubbliche e private, con il mezzogiorno molto indietro, in particolare per la campagna che è fanalino di coda con il suo 6,7%. Se quindi gli asili nido sono soprattutto al centro nord, va da sé che il bonus prenderà quella strada. Stando ai calcoli dell'Istat, l'incentivo per il 94% andrà al nord. Conte ha anche detto di voler riequilibrare la situazione a favore dei territori dove il servizio manca. Il bonus intanto è facile da organizzare, ampliare l'offerta dei servizi e un tantino più complicato, quindi per il Sud siamo alle solite promesse. Se poi si tocca il tema delle risorse con cui coprire il bonus ed eventualmente costruire nidi dove mancano, si apre un'altra questione. Un fondo a cui attingere già c'è e affonda le radici nella cosiddetta buona scuola. I soldi, a partire dal 2017, sono stati distribuiti alle regioni, ma le strutture non sono mancate e, manco a dirlo, hanno penalizzato il Sud. A fine 2017, infatti, l'allora ministro Valeria Fedeli firmò un riparto che aveva come parametro principale il numero di bambini iscritti ai nidi e quindi favoriva i territori con più servizi. Alla fine, il fondo per costruire asili nido dove mancavano si è trasformato in un premio perché le asili ce l'aveva già.